Noleggio autogru Bertani e la qualità e la sicurezza nel settore dei sollevamenti a Verona L'azienda da oltre 35 anni si occupa del noleggio di automezzi speciali adatti ad ogni tipo di sollevamento e spostamento Grazie a personale altamente qualificato, è in grado di offrire assistenza per l'utilizzo di ogni macchinaio Propone sistemi per la movimentazione di merci, mezzi e macchinari industriali Metti a disposizione una flotta di mezzi all'avanguardia, come autogru girevoli con varie altezza e braccio, se moventi e piattaforme aeree con o senza operatore